Si parte dal tentativo di ricucire il centrodestra salernitano? Sì, abbiamo organizzato questo tavolo con tutte le forze del centrodestra per trovare le ragioni che uniscono e non le cose che dividono. Un tavolo aperto però a tutta la società civile, non chiuso alle segreterie dei partiti e quindi noi cercheremo di ragionare su dei programmi di modelli alternativi da proporre per la città di Salerno che partano da una minore tassazione perché in questi giorni abbiamo visto che la tassazione della città di Salerno è una tra le più alte d'Italia. Anche perché il 2016 non è poi così lontano? Non è poi così lontano il 2016, potrebbe darsi che si voti nel 2015, quindi al di là di tutto credo che le scelte per una città debbano essere condivise, partecipate, quello che questa amministrazione non ha mai fatto e che invece noi crediamo che si debba fare. È più facile trovare ragioni per stare insieme oppure è abbastanza difficile? Ma credo di sì, noi vogliamo essere un modello non solo per tutta la provincia ma anche per altre realtà. Vogliamo unire il centrodestra, vogliamo dare un'alternativa credibile alla gente rispetto all'amministrazione De Luca. Vogliamo partire da un progetto. Attorno ai progetti in genere si riesce ad aggregare ovviamente un progetto condiviso, partecipato con la gente, faremo incontri nei quartieri, cercheremo di raccogliere le istanze e sulla base delle istanze di redigere un programma di governo.